Delitto passionale, questo potrebbe essere il movente dell'omicidio della donna originaria di Buonabitacolo ma residente a Vallo della Lucania in un centro di prima accoglienza che nella giornata di lunedì è stata ritrovata priva di vita presso la struttura del piano di zona S8. La procura di Vallo della Lucania nella giornata di ieri ha emesso un fermo d'indiziato di delitto per omicidio. La donna era stata ritrovata da un'operatrice del centro con un coltello conficcato nel petto. Dopo un lungo interrogatorio l'uomo individuato dalle forze dell'ordine vicino alla vittima è stato fermato e interrogato per diverse ore. Al termine dell'interrogatorio avrebbe confessato l'omicidio. La donna era conosciuta nella comunità vallese, laureata in ingegneria, in passato è stata anche un'insegnante, ma a causa di problemi fisici non praticava più la professione da diverso tempo. Una vicenda che ha scosso l'intera comunità del comune di Vallo della Lucania per la dinamica del ritrovamento senza vita della donna. Venerdì mattina l'autopsia sul corpo della 66enne che si trova attualmente presso l'obitorio dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania.